Ma cosa... Non c'è tempo! Corri! Ci alzeremo in volo questa sera, professore? No, no, no! Temo di no! Questi vecchi modelli sono alla totale mercè dei venti E oggi temo che ce ne sia davvero troppo per rischiare Ora, questo modello in particolare Cosa credete di fare? Uscite immediatamente da lì! Telefoni! Ti copro io! Ti perdite! Presto! Attenzione! Attenzione! Muori! Bene! Preso! Ancora una! Ti prometto che stai avvenendo in fretta! Adesso! Arrivo subito! Ferma! Provo a resistere! Non fai da nessuna parte! E' davvero bello da qua su! Vedrai che panorama! Ma non mi dire! Il vento aumenta! Ti devi sbrigare! Già! Grazie! Per caso hai pensato a come faremo a tornare a terra? No! Queste facciane si risolvono da sole! Eccolo là! Eccolo là! Ehi! Gli denti stanno quasi per finire! Spero tu odi a piano! Guarda come mi schiazzo bene nel fiume! Potrebbe esserlo! Lasciali stare e corri! Stiamo perdendo! No! Non è una mossa! Ci penso io! Non fermarti! Ci penso io! Non fermarti! Prendetelo! Fermatevi! Fermatevi! Ignorali! Ignorali! Non c'è il diavolo un po'! Un gesto volante! È pizzerro! Sì! È lui! È successo! L'apone si è incastrata! Voi! Un momento! Tornate giù! Al! Arnaud! Tutto bene? Arnaud! Oh... Oh... Oh! Oh! Arnaud! Sto bene! Fermi! 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 Forse stanno cercando di colpire me! Cos'hai combinato prima? È una lunga storia! Mirate! Presto! Fuoco! Scusate, signore Non devi perdere tempo! Ancora! Pronti? Non devono scoccire! Via! Mirate! Fuoco! Ricaricare! Non devi perdere tempo! Ancora! Siamo quasi al fiume! Presto! Ora! Arrivo! Non mi sembra proprio il momento! In futuro Alla fuga ci penso io È bellissimo! Da quassù non si direbbe proprio che la Francia stia andando in pezzi Le... Le cose torneranno mai come erano prima Secondo te? E per te? Dopo quello che è successo E ciò che abbiamo perso Quindi è finita Il corso della storia è cambiato Non si torna indietro Non si torna indietro Ma... Andare avanti non significa farla finita Elisa Io... Hai barato Sei così lento Ti amo Non si torna indietro Ero di fretta, dormivi così bene, non potevo svegliarti. Ti amo, Elise. Qualcuno verrà a prenderla, sicuramente. Ero di fretta, dormivi così bene, non potevo svegliarti. Ti mando subito i dati. Ero di fretta, dormivi così bene, non potevo svegliarti. Sei molto vicino ora, non mollare. Non siamo riusciti a scoprire date e luogo della morte di Germaine, quindi dovrai pensarci tu. A dopo.